Allora, avete visto uno fa un post, ragazzi, salta fuori un casino pazzesco, in realtà ho fatto un post ieri e un post di nuovo oggi. Per spiegare quello di ieri, ma in realtà la maggior parte di voi avevano inteso il tono riferito non tanto al talent, perché l'oggetto di quel post di ieri non è il talent, la scusa è stata il talent, cioè gli amici compie vent'anni. Col pretesto di parlare del ventesimo anno di amici, io mi sono augurato e ci ho augurato che da questo programma, così come da altri, X Factor e altri, possano uscire delle buone canzoni, possa arrivare buona musica e possono uscire degli artisti che valgano. Questo esula fortemente dal dire, uno mi ha detto anche che è stata una leccata di culo alla De Filippi. Ora quello che mi fa arrabbiare, ma non è arrabbiare, perché sapete che io non mi arrabbio mai, cioè a me dispiace vedere che c'è chi si incazza con dei post di internet su Facebook, e mi dice ma perché ti incazzi? Cioè su Facebook puoi scrivere, e io un po' mi diverto, poi ci sto un po' dietro, poi dopo vado a suonare, vado a fare il papà, vado a fare il mio lavoro. Il concetto è, De Filippi fa programmi televisivi. I programmi televisivi, io parto da questo presupposto, i programmi televisivi sì, sono responsabili della cultura che si sviluppa e si svilupperà in un paese, ma al tempo stesso se sono responsabili della cultura sono anche figli di quella stessa cultura. Quindi se è vero che un programma influenza la cultura è altresì vero che un programma è frutto della cultura che è già instaurata in quel paese, no? Ditemi se sbaglio. Quindi il talent, io ho visto gente che dice no, si è perso la cultura, tutte queste cose qua. Io non è che sia particolarmente a favore dei talent, ma io non sono neanche particolarmente contro, perché qual è poi l'alternativa? Quello che io vedo è che in televisione c'è musica, c'è modo per qualche esordiente di provare ad uscire, c'è musica nelle serate buone, in prima serata, fatta bene, con delle belle produzioni. E se viene trasmesso un artista che non è di grande qualità, una volta uscito da questo talent, questo artista sparisce. è la democrazia del mercato che fa questo. Personalmente chi mi conosce sa che io sono sempre stato con quelli che sono mainstream, ma anche totalmente fuori dal mainstream. Io continuo a fare dischi acustici. Ragazzi, il mio ultimo EP è un EP di quattro pezzi di chitarra acustica che si chiama Nebbi in Valpadana, ma ovviamente su Spotify e tutto non ha neanche un decimo, ma neanche un centesimo forse, forse un millesimo di quello che può avere un Emma Marrone, forse un decimillesimo di Alessandro Moroso. Ma io mica mi incazzo con loro e con questi qui che escono dai social perché non ascoltano la mia musica, perché la mia musica è buona. Cioè, partiamo dal presupposto che non è perché è mainstream che fa schifo, è perché è di nicchia che è buona. Esiste mainstream molto buono, io voglio dire Michael Jackson, era mainstream, cioè era musica pop, il re del pop, quindi quello era pop ed era mainstream ed era di qualità. Esiste anche musica alternativa di nicchia particolare che fa cagare. Cioè, non è che per forza se te non ti ascolta nessuno è perché io faccio qualcosa di diverso e la gente non la capisce. Può anche esserci che non è famosa, è di nicchia e fa cagare. Cioè, non si capisce quello che vuoi dire perché non si capisce bene l'oggetto del soggetto, non è realizzata bene, gli strumenti non sono perfettamente accordati, la produzione non segue le stesure, cioè ci sono tutte le variabili, no? Se noi cadiamo in quella credenza, in quella leggenda metropolitana dove le ragazze belle non sono mai intelligenti e chi non è particolarmente attraente è per forza intelligente, ok? Esistono le belle e intelligenti e quelle che non sono né attrenti né intelligenti. Così la musica. Quindi dai talent, se esce qualcosa che non è buono, sparirà. Quelli che sono rimasti, e io ho scritto di alcuni post, vedete che io non... Cioè, come ho scritto auguri per questi vent'anni, speriamo che arrivi della buona musica da questi talent. Io ho fatto l'esempio di amici perché erano i vent'anni di amici, ma poteva essere qualsiasi altro talent. Io ci ho messo in nome da Pier Davide Carone, che chi ha vent'anni non si ricorda chi è, a Scanu, che probabilmente lo conoscono un po' meno, all'Amoroso, a Emma, ok? All'Analisa Scarrone. Non è che il mio impegno, quando erano fatte le registrazioni di questi artisti, fosse diverso perché uno aveva più talento e aveva meno talento e poteva fare successo o meno successo. Il musicista ha un dovere, fare la musica e farla fatta al meglio. Fatta al meglio vuol dire che lui ha utilizzato tutto il suo impegno. Poi, oggettivamente, c'è musica che è realizzata con i crismi di qualità o non di qualità. Il bello e il brutto sono frutto di un qualcos'altro. È come parlare di etica e di morale, ok? Quindi, da un punto di vista etico, ci sono delle cose che sono etiche, lo saranno in qualsiasi tempo, in qualsiasi luogo, in tutti i mari, in tutti i laghi. Mentre morale, la morale è dipendente, direttamente dipendente dalla cultura formata in quel momento, in quel paese o anche contemporanea, allo stesso periodo, in paesi diversi. Ho sempre preferito i geni compresi da quelli incompresi. Bravo. Attenzione, se nessuno ti capisce, c'è il dubbio, ti verrà il dubbio che forse non ti sai spiegare. E dall'altra parte, Varini, posso chiederti un ricordo di Stefano Dorazio? Stefano è stato un'ottima persona, ma io non sono andato tanto in profondità perché non lo conoscevo particolarmente bene. Ci ho parlato solo due volte, ho lavorato molto di più con Red e sono ottimo amico di 12, sentiamo telefonicamente, non ho fatto e non voglio fare neanche in questo caso un post, tipo quando è successo di questa tragica perdita, con Stefano taggando tutti i fans club del mondo dei Poo e tutti gli amici di Stefano per avere dei like sul mio Facebook. Io semplicemente ho scritto che mi dispiaceva una perdita. Non avendo un rapporto umano diretto, non avendo influenzato lui direttamente la mia musica con la mia vita, ho preferito dare un saluto a un musicista che ha segnato la storia della musica italiana, niente di più perché credo si debba rispetto a una persona che scompare anche nel dandole lo stesso peso che tu realmente le hai dato quando eri in vita. Dare troppo peso a una persona che è scomparsa potrebbe essere mettersi in fila e andare nel calderone della visibilità che viene creata da questa persona. Quindi quello che voglio dire è, uno, secondo me c'è troppa frustrazione ragazzi, c'è troppa frustrazione qui sui social, anche tra di noi, cioè noi siamo musicisti, che uno sia fonico, produttore, tecnico, backliner, chitarrista, bassista, violinista eccetera, noi dovremmo essere coesi. Il fatto di andare contro i talent, uno l'ha scritto, è come andare contro ai mulini a vento. Se tu sei contro i talent, non guardi i talent, fine, non compri i prodotti che escono dai talent. Eppure c'è gente che adesso osanna i maneskin e sembra che si sia, che siamo venuti fuori da qualsiasi altra parte, sono venuti fuori dai talent. Io vi posso giurare che se Massimo Verini, io parlo in terza persona, ok, così mi faccio anche quello che si muotra la testa, se io facessi il cantante e avessi vent'anni, perché la 50 non mi prendono, adesso io mi scriverei un talent, ma non perché è meglio, ma perché è l'unico modo. Se voi sapeste, se quelli che scrivono queste maree di cazzate venissero a fare il mio mestiere, il produttore artistico, e sapessero che riuscire a prendere tanto spazio così per un prodotto nuovo, con un cantautore che prova a dire qualcosa in modo diverso, è difficile, è quasi impossibile. Cioè, è un disastro. Allora che cosa devi pensare? Che cos'è un talent? Che cos'è X-Factor? Che cos'è Amici? Cos'è Italia's Got Talent? Cos'è quella roba lì? Un momento di visibilità. Allora vai lì, prendi la tua visibilità e ti fai eliminare. Il problema qual è? L'assoggettarsi, andare contro i propri principi, andare contro a quello in cui si crede, accettando un compromesso troppo alto per essere accettato eticamente più che moralmente ancora, cambiare se stesso in funzione di quel social, di quel talent, scusate, perché anche i social non sono diversi, ok? Cioè, vedi, dice, servirebbe Alessandro Luzzardi, mi dice, servirebbe spazio per anche chi non è social. Hai ragione, cioè hai ragione, ma io produco anche gente che non va nei talent. C'è meno spazio, è difficile, ma chiediamoci noi, cioè ogni volta io, mentre va, valuto gli altri, non giudico, valuto il comportamento di qualcun altro, cerco di valutare il mio comportamento. Allora chiedo a ognuno di noi, a ognuno di voi, visto che chi è contro i social dice che i social hanno rovinato questa musica e invece la musica è indipendente, quella che porta avanti la cultura. Ma quanto avete pagato negli ultimi anni di Netflix, Sky, The Zone, Calcio, abbonamento delle varie app e abbonamento dalla PlayStation al club della Nintendo Switch a Spotify o quanto avete speso di questi soldi per comprare CD e gli album in MP3 degli esordienti? di qualcuno che esce, che in mezzo, che andate, che vai a spulciare, vai a cercare? È che con tutto questo che c'è, tutto quello che c'è adesso, è difficile emergere. Tu dici, ma adesso ci sono anche i social. I social, come il talent, il social non è una onlus. Il social, Facebook, che nel frattempo si è comprato anche Instagram e WhatsApp, fa miliardi di dollari, ok? Quindi per emergere dai social devi pagare. Come una volta per avere promozioni in radio, in tv, eccetera, dovevi pagare. Se non pagare, investire. Investire in un ufficio stampa che si faccia il culo così, ma adesso gli uffici stampa hanno pochissimo potere. Riuscire ad andare nel radio, ma adesso le radio funzionano poco. Perché? Perché spesso il fruttore di musica che ascolta la musica, sia essere streaming in un altro modo, non è colui il quale ascolta la radio. Cioè, raga, ma qui, quando viene fuori il coronavirus e in Italia siamo 60 milioni di virologi, quando ci sono i mondiali siamo 60 milioni di allenatori, quando si parla di musica siamo 60 milioni di produttori e c'è gente che si permette di venire a scrivere e non ne sa di questo di sta roba qui, ok? Io vi posso garantire che dopo ho aperto la partita IVA 31 anni fa e faccio un musicista professionista di numeri, di fatturato, eccetera, da 31 anni. E io non mi permetto di dire che ho capito. Cioè, poi arrivano sti maghi da tastiera, ce ne sono tanti, che hanno capito tutto. Ma bravi! Bravi che avete capito! Veramente bravi che avete capito! Allora spiegatemelo, ma mentre lo spiegate, fate! 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 Perché io ho prodotto due musical, ok? E sono lì e sono belli e funzionano bene. Non riesco a piazzarli! Non riesco a piazzarli! Ma invece che dire sono tutte delle merde, io ogni volta che mi alzo, e Ross che si occupa di queste cose qua, cerchiamo un interlocutore per riuscire a mettere in campo questo musical, perché poi portare in giro un musical ci vogliono centinaia di migliaia, ciao scavo, centinaia di migliaia di euro! Ok? Io ho comprato un cd della band americana, dice Alessandro Luzzati. Bravo! Bene! È giusto! Ma il problema è che queste fazioni che sono contro qua, contro là, contro là, non sono pro di niente. Allora ricordiamoci questo che nel momento in cui noi continuiamo a parlare contro, la nostra vita diventa una vita contro, secondo me, adesso non sono mica maestro di niente, io sto parlando, siete sul mio canale, io dico quello che penso io, poi se non siete d'accordo cambiate, cioè non è che se niente. Sta nero oggi Max, ma io guarda che me ne frega niente, è che delle volte ragazzi io posso capire la rottura di balle che può avere un virologo, quando sente noi che parliamo di virus sapendone più di lui, lui magari ha studiato, ha fatto delle magistrale, ha fatto una laurea, poi ha fatto una magistrale, ha fatto in giro, perché io vedo, io che lo faccio da 30 anni, che guardo i post, poi a me non cambia un cacchio, perché tanto poi io mi siedo sulla riva e li vedo passare, ok? Quindi non è problema, io ne ho visti passare in questi anni che non c'è nessun problema. Ma leggo di cose mai viste, cioè mai sentite, e dici, ma com'è possibile che questi siano così accaniti? Il problema sono i talent. Ma ragazzi, ma perché prima dei talent? Cosa succedeva? Ve lo giuro, mi ricordo una volta che ero a cena con i miei amici, dieci anni fa, e parlavo, vieni a fare la parola festival bar, e sento uno che dice, ah che vuoi, è un po' che non lo guardo, e gli ho detto, sai che sono cinque anni che non fanno più il festival bar e tu adesso che dici che a te piace tanto la musica, ti sei accorto adesso che non fanno più il festival bar e io ti dico che sono cinque anni che non lo fanno? Cioè di che? Stiamo parlando. Ok, faccio via. Io andavo sempre a vedere i live band emergenti che appalzavo, bravo. Il problema, il problema, scusate che stavo leggendo, ora ogni tanto mi perdo, poi la rosa mi portavo il caffè, grazie rosa. Prego, mamma. Io sto che sono poco nervoso, ma io non sono nervoso mai, però sì, sono nervoso sempre e mai. Sono nervoso con le tessere che pensano di sapere tutto, ma sapete tutto cosa? Cioè come puoi pensare che X Factor sia il cancro della musica, questo sul cancro della musica e quell'altro sulle cose buone? Quelli sono lo specchio della nostra società, dove negli anni ho incontrato migliaia di studenti, migliaia di studenti e vi faccio questo esempio. La maggior parte delle persone che vogliono fare parte del mondo della musica e che si lamentano che non c'è business nella musica, sono quelli che hanno l'hard disk pieno di mp3 che non hanno comprato, sono pieni nel computer di software che non hanno comprato. Se noi abbiamo la roba pirata dal software all'mp3 a qualsiasi altra cazzata, noi non finanziamo un mercato che di riflesso non ci fa entrare. Non pagare quanto sarebbe giusto fosse dovuto per un'opera musicale che noi riteniamo di qualità o non di qualità fa sì che non girino soldi in un sistema musicale di cui noi vorremmo fare parte e proprio perché noi non lo finanziamo non ne potremmo fare parte. Ok? Oggi la musica la si ascolta sempre. Penso che sia anche una questione di velocità. Oggi la musica si ascolta sempre ovunque. Bravo! C'è troppa musica. Vogliamo dire quanta musica c'è? C'è dappertutto in tutte le pubblicità. Secondo me c'è troppa musica. Se la musica è o fosse arte non andrebbe spalmata da tutte le parti. Io non so voi, Beate, voi siete riuscite ad ascoltare la musica. Io la musica è di sottofondo, non la riesco ad ascoltare. Lo sa anche la Ross. Neanche quando non riesco ad ascoltare la musica. Ok? Perché la musica, nonostante ci siano dei momenti qua che ride, mi rapisce. Perché la musica è arte, è espressione, è emozione, è emotività. È tutto. Una canzone, è un contenitore. Provate a pensare quando ascoltate una canzone che avete ascoltato l'ultima volta nel 93. Quando l'ascoltate, vi viene in mente l'ultima volta che l'avete ascoltata, con chi eravate, la luce che c'era, il profumo che c'era. La musica è un contenitore, è un macro contenitore contenente terabyte di informazioni ed è tutto in una canzone. Ora, se noi non crediamo in questo prodotto, il prodotto finisce. È ovvio che, bravo Fabio Carbone che sei d'accordo con me. È ovvio che quindi tutto questo va a ramengo, perché non ci sono più soldi. Oggi la musica non si compra con i vecchi metodi. Hai ragione. Il problema, sai qual è? Che chi poi magari dice, la musica non si compra con i vecchi metodi perché anche i giovani possono farla con lo streaming. Ma voi sapete quanto si prende con lo streaming? Ma stiamo parlando che, se facessi 100.000 streaming al giorno, 200.000 streaming al giorno, vorrei che se avete un amico che fa musica e tutti abbiamo la musica su Spotify. Tutti, perché il problema è anche questo, che tutti la possono fare. Non dovrebbe, ci dovrebbe essere un filtro. Ci dovrebbe essere un filtro. Non tutti hanno il diritto di fare la musica. La musica è per tutti, non tutti sono per la musica. Fine. Ora, se voi faceste 200.000 streaming al giorno, non portate a casa lo stipendio. Non lo porti a casa lo stipendio con 200.000 streaming al giorno. Cos'è che devi pensare? Devi pensare in largo, lo scrivo nel mio libro anche. Devi pensare lateralmente. Se tu dici, vabbè, che cos'è? La gente vuole guardare un programma che guarda la D'Urso, ok? Allora vatti a fare se riesci a trovare l'ospitata dalla D'Urso, perché esiste una osmosi di popolarità. Io l'ho definita. Cioè, se tu vai in televisione e fai il tronista, quando esci da lì e sei un po' popolare e canti, sei un cantante un po' popolare. Se scrivi un libro, sei uno scrittore un po' popolare. Allora, se quello che cerchi è la popolarità, devi andare dove la popolarità ti può raggiungere, dove tu puoi raggiungere la popolarità. Attraverso quella popolarità, veicolare i contenuti che tu credi siano quelli giusti, ok, per rappresentare te stesso. Sempre che ciò che tu vuoi rappresentare di te stesso non sia contrario ai principi stessi che ti hanno portato ad essere popolare. Non ti ho mai visto in casa in casa? Ma io non sono incazzato, ragazzi. Sono soltanto Barbarella, la Barbara Tosive. Io non sono arrabbiato, sono soltanto determinato, sono determinato. Però quando qualcuno ti dà del leccaculo, sei un traditore, sei un fatturaio, esatto. Quindi? Se a te ti sta sul cazzo che hanno chiamato me invece che a te, è un problema tuo. Non posso essere arrabbiato, ognuno lo fa in mestiere. Ovvio che se ci fai un disco guadagnerai X, se ne fai due guadagni XX, se ne fai tre XXX. Se questi dischi non vendono, non prenderai niente da nuovi maglie, se vendono tante e vengono utilizzate, guadagnerei tanto delle tanti maglie. Ma quello che dicevo io prima, e voglio riallacciarmi, è il pensare fuori dagli schemi. Cioè, non pensare che un momento di visibilità termini con la fine della visibilità. Ma il fatto di riuscire ad emergere un po' è quello che ti permette adesso, quando finirà sto lockdown, questa parte che c'è, di fare dei live. Ok? Ma devi essere anche capace. Ok? Cioè, quando sei in televisione, vediamo tutte queste produzioni, queste pro... eccetera. Bene. Ma quando poi uno esce, è lì la verità. Grazie a Dio. Cioè, la verità è la verità del palco, la verità di suonare, di cantare con la pancia e, andate a vedere tanta gente, è il capire, lì capisci il carisma. Ci sono persone che salgono sul palco e non puoi fare a meno di guardarle. A prescindere che cantino bene o male. Quindi la popolarità è da sfruttare in tutto quello che può girare intorno. Ok? Un'altra cosa. Ho letto, con i talent, se fosse stato i talent una volta, non sarebbero mai usciti Vasco Rossi e De Andrè. Cioè, è vero, è vero. Sarebbero usciti in un altro modo. Però, credo anche che quando è uscito Vasco Rossi e quando è uscito De Andrè, noi non guardassimo la tv sul telefonino. Non potessimo parlare con 765 persone contemporaneamente dicendo una marea di c***ate che gli altri li ascoltano e dicono, ah, ah, ah. Era un altro mondo. Allora, se vogliamo essere consapevoli che 30 anni fa o 40 anni fa era un altro mondo, bene. Se no, no. Perché 40 anni fa, 30 anni fa, ma anche 20 anni fa, quando ti piaceva un prodotto, uscivi, andavi dal tuo negozio, andavo da Tosi Dischi a Carpi e facevo toc toc toc, andavo dentro, ciao Lucio, Lucio di Tosi Dischi che poi era di Reggio Emilia, ma aveva una sede anche a Carpi. Oh, ho sentito che è uscito quello lì. Sì, si metteva sul disco, lo si ascoltava, si leggevano i credit e poi si compravano. Quindi c'era un movimento, c'era una scelta. Adesso non c'è la scelta e non essendoci la scelta c'è piattume, ok? Ma perché questa rabbia che avete contro il social o contro quell'altro, scusate, contro il talent o contro quell'altro, oppure, eh, non la sfogate contro un qualcosa che è abominevole per noi musicisti. Con l'MP3 e con lo streaming, noi musicisti siamo spariti, ragazzi. Come si fa a sapere chi ha suonato quel pezzo? Sapete che ho incontrato gente che dopo che è andato in giro, che sono tutti gli MP3, eccetera, dice di aver suonato pezzi che ho suonato io, che loro non hanno la fattura perché, sai, mi hanno pagato in nero e si sono dimenticati di mettere il mio nome nel disco. Però nell'MP3, negli MP3 nello streaming, il musicista non c'è scritto, i credit non ci sono scritti, il produttore non c'è scritto, l'arangiatore non c'è scritto, a volte, a fatica ci sono scritti di autori, esiste solo l'artista. Su quelli bisogna incazzarsi, non incazzarsi perché c'è la De Filippi, non la guardare, non la guardare se pensi che sia un problema la De Filippi, non la guardare. Incazzati se sei un musicista per parte di questo mondo perché non ti è riconosciuto il credit. Ma quando ti incazzi che non ti è riconosciuto il credit, ti faccio una domanda. Hai fatto tutto a posto? Hai aperto la partita IVA quando era il momento giusto? Quando hai registrato? Hai aperto la GBD da Impulse, hai fatto versare i contributi, sei stato attento a tutto, perché se tutto questo è stato fatto ti puoi incazzare, se no devi stare muto, se hai fatto tutto. Ok? No perché su Facebook di producer non ho letto un bel po', c'è scritto un bel po' di gente che fa il producer. Eh, eh, l'ho visto un po' un producer. Salvatore Pagano, guarda, Salvatore Pagano di Music Off. Caro Massimo, proprio cinque anni fa ho risposto su un gruppo a una persona che cercava il modo di intercettare su eBay una licenza illegale di una nota piattaforma streaming che costa al mese quanto un caffè. Vi rendete conto? Cioè c'è gente che vende i miei PDF, dei miei libri. Io una volta sono andato su una piattaforma che lo chiamavano, aspetta pure, scambio eco solidale, non mi ricordo una roba di queste robe qui, dove tu pagavi 6-8 euro al mese e potevi scaricare tutti i PDF che volevi. I PDF c'erano i miei. In dieci anni avevamo fatto due calcoli e avevo perso circa 600.000 euro di diritti su tutto il materiale che io avevo prodotto in termini didattici. Ok? Ma perché? Ipotizzando che i download tracciati attraverso l'IP, ma anzi forse sai che non era 17, era 2007, era prima, perché si partiva da Emule, quindi Emule è già morto da un po'. Ipotizzando che tutti quelli che l'hanno scaricato l'avrebbero comprato. Ma chi scarica gratuitamente una cosa? Spesso non la compra e se non la compra non gli dà il valore del denaro, dello sforzo che ha fatto per acquistarlo e quindi perde significato. Quindi io quello che voglio soltanto dire è che prima di incazzarsi con tutti si potrebbe fare. Il miglior modo per lanciare la musica emergente è finanziarla. Cioè sapete quando facevo, io ho iniziato più di vent'anni fa a fare il giurato in alcuni concorsi, direttore artistico di Sanremo Rocco, e li ho visti tutti, li ho fatti tutti di stai per questo mi incazzo con i coglioni che fanno i post da cretini che sono dei deficienti ma si comportano ben cretini, quindi non sono neanche se stessi, e scrivono questa roba qua. Io gli step li ho fatti tutti e quindi chi scrive e vuole fare il fenomeno non deve rompere i coglioni a me, perché l'ho fatto lo step dall'emergente all'emergente al big, al mainstream, a tutti, ok? E ho capito, e io adesso che ho capito sto zitto, non vado a rompere le balle a quegli altri, ok? In tutto questo c'è soltanto una cosa che non può cambiare, la parte creativa, la parte della serietà professionale, la creatività, la serietà professionale, non sono parte della morale, sono parte di un'etica che tu hai a prescindere da quale sia il veicolo che ti permetterà di raggiungere le persone. Se molti dicono che non ti capiscono, forse non ti sai spiegare, dico solo questo, Sanremo Rock, eh vedi, Sanremo Rock. Io, scusate soprattutto qua perché poi mi girano le balle e dopo mi perdo. Quello che dicevo è questo, guarda conosco un ragazzo che è bravissimo, guarda che è fantastico, tutti sai, ma guarda che il mio progetto mi hanno detto che è fortissimo. Bene, avete una grande opportunità. Quando i vostri amici mi dicono, oh sei fortissimo, bene, prendete i vostri amici e gli dite ragazzi, secondo te sono forti, uno dice, oh per me sei il numero uno, fratello, grande, bella zio, quell'altro, oh te spacchi ragazzo, fratello, tu rompi, bene ragazzi, pensate che mi bastano 15.000 euro, faccio un battaglio pubblicitario su Spotify, Facebook, prendo un'agenzia stampa e vado avanti, noi siamo in 15 amici, datemi 1.000 euro a testa, vedete se vi da 1.000 euro. Perché la cosa migliore è che ogni vostro amico, se pensa che voi siete bravi, vi da 5.000 euro e se non li ha, fa il filo in banca, perché se lui pensa che voi siete bravi, vi da 5.000 euro ed è sicuro che dopo un anno ne prenderà indietro 10.000. Se non è così, è perché parla, dà fiato, ha i denti, asciuga i denti, l'umidità dei denti, asciuga la lingua, perché quando qualcuno deve credere in qualcuno, deve cacciare la pilla, non so se avete capito che è questo, ok? Cioè se uno dice, voglio spingere, allora caccia fuori 50, 100, 200, 300.000 euro per farlo, per pagare promozione, andare in giro, fare le radio, adesso non si fa più in giro, ok. Ma voi veramente credete che c'è uno che mette un video su YouTube e diventa famoso, di colpo gli cambia la vita? Forse sì, ce ne saranno due, è lo stesso modo che uno va a suonare in un locale, entra uno e gli dice, mamma mia come canti bene, lo produce e lo porta a Hollywood, e gli dice, ti faccio fare un film, e diventa il nuovo Jennifer Lopezzo, ok? Bene. Allora, se qualcuno vi dice che siete forte, radunate tutte le persone che vi dicono che siete forti, e vi fate dare 1.000, 2, 3, 4, 5.000 euro a testa, create una micro società, vi danno i soldi, e alla fine funziona. Se ve li danno è perché credono in voi, se no davano fiata l'aria. Perché vedete che nel momento in cui uno è su Facebook e fa il produttore, è un fenomeno. Quando deve cacciare la pilla? Ti buono, è meno sicuro. Ah, è meno sicuro? Dice, no, ma sai, però, in effetti, si accorge che il testo non è a posto quando deve pagare. Si accorge che la musica non è registrata bene quando deve tirare fuori i soldi. Poi dice, ah, ma sai, ci servono 10.000 euro per un ufficio stampa. Ah, sì, ah, ma mi vengono tutti i dubbi. Stranamente, quando scrive è un fenomeno. Quando c'è da pagare, non è un fenomeno. Pazzo, quanta ragione hai, Massimo? Bravo, hai ragione anche te a darmi ragione, Fabio Cerulli. Cosa ne pensi di Bandcamp? Sono piattaforme che servono. Tutte le piattaforme servono. Ma ricordo, ok? Vi ricordo anche che di norma chi fa una piattaforma o sono un insieme di persone con una fondazione che hanno una forte attitudine sociale, culturale e non sono a scopo di lucro e sono un'associazione e devono avere una struttura societaria che preveda che alla fine dell'anno non debba esserci un utile, un lucro, ma che questi utili devono essere reinvestiti nell'attività sociale o altrimenti sono scopo di lucro. Se sono scopo di lucro e ti danno possibilità di farti vedere, il loro valore sei tu. Perché tu metterai i tuoi video, metterai le tue canzoni, lo farai sapere, pagherai la pubblicità, la gente verrà a sentirti e loro guadagneranno. Ok? Bandcamp dovrebbe essere, quello che ho capito io, dovrebbe essere un sito che permette alle band di fare pubblicità, aspettate eh? Cioè di farsi conoscere, tipo una volta c'era MySpace, ok? Dice, discover amazing new music and... E qua la cosa, vedete c***o che ho ragione io, qua c'è scritto and directly support the artist who make it. Cioè scopri fantastica musica normale e supportala direttamente. Tutto lì, si torna ai soldi. Semplicemente lì. C'è però anche da dire che gli artisti stessi molto spesso non credono in quel che fanno, tanto da metterci su il grano. Giuliano dice, beh delle volte non ce l'hanno il grano ma soprattutto perché spesso l'artista, vedete il problema è proprio questo. Il fatto che noi adesso abbiamo modo di arrivare direttamente all'utente finale, si rompe una cosa, cioè non per forza dal produttore al consumatore è meglio, ok? Cioè dal produttore al consumatore. Una volta l'artista passava da un filtro che era la casa discografica. Questa casa discografica creava uno staff che fosse il meglio per l'artista. Da un certo punto di vista era meglio, da un certo punto di vista era peggio, e si creava un filtro e si sistemava le cose. Adesso il problema è proprio che su Spotify eccetera, ma ragazzi esce una quantità di roba che è incredibile e spesso arriva direttamente online prodotta da chi non ha mai fatto produzioni, ok? E quindi diventa un casino perché mettere sul mercato una massa di musica di bassa qualità fa pensare che la bassa qualità sia lo standard e questo fa perdere a tutti. Quindi non è la maggiore libertà che genera la reale libertà, ma può generare un danno al mercato perché oltretutto è molto distraente. Attenzione, ricordiamoci che anche tanti anni fa poi facevano il programma sulla Rai, usciva il disco di Heather Parisi o della Cuccherini eccetera, di persone che non erano grandi cantanti ma vivevano di una popolarità portata dalla TV che veniva trasferita in popolarità e in canzoni. anche Ciccioline, Ilona Staller aveva fatto una canzone, tutti hanno fatto musica e quindi scusa ma non sono d'accordo, se non ce l'ho il grano lo trovo, banche o altro, non capisco perché se voglio aprire una consistività posso chiedere prestiti o altro per trovare i soldi mentre se si tratta di altri in generale non si può fare lo stesso discorso. Bravo, sai che hai ragione, hai ragione, hai semplicemente ragione. E' vero, è vero anche che a volte, questo non è facile da spiegare, ma a volte gli artisti più dotati dal punto di vista creativo sono anche quelli che sono più liberi, come te lo voglio, come te lo posso spiegare, cioè non è un bene che un artista, purtroppo eh, che un artista sia esso stesso il produttore esecutivo, esso stesso il produttore artistico, perché questo qua non è libero, perché mentre produce la sua musica sa che sta utilizzando parte di quei soldi e deve come produttore esecutivo e come produttore artistico deve gestire artisticamente questa cosa. A volte chi riesce a fare tutto questo non è sufficientemente libero e creativo come chi di questo non ne sa niente, cioè facendo tutto da soli devi dividere le tue attenzioni, la divisione di queste attenzioni ti porta a consapevolezza, la consapevolezza spesso è indice di una limitata libertà. Diverso è l'artista che è libero, cioè quando io ho prodotto due musical dove il produttore esecutivo era Pierre Cardin, l'autore Daniele Martini, e Pierre Cardin, che ormai ha più di 90 anni, crede così tanto nella libertà dell'artista che ogni tanto quando trova degli artisti, quando parlo artisti non parlo per forza cantanti, pittori, scultori, insomma tutti tipi di arte. Lì dà uno stipendio, lui ha un paese in Francia che si chiama Lacoste dove noi abbiamo fatto le prove, poi la prima sia del Casanova e poi dopo anche dell'Amleto che sono i due musical che ho prodotto per lui, di cui autore Daniele Martini, ha comprato il paese. Pierre Cardin ha comprato il paese, ha comprato il castello del Marchese de Sade, dove noi lavoravamo dentro, e una grande cava dove ha costruito un teatro all'aperto, dove fa fare le esposizioni dalle sculture, nel castello fa le esposizioni dei quadri, e paga gli artisti per creare. Ecco, l'artista che deve pensare solo a creare ha davanti a sé il mondo. L'artista che però deve pensare a essere esso stesso il suo finanziatore, esso stesso il suo produttore artistico, non può avere la stessa libertà. È inevitabile. La tua competenza musicale non è per i soci, sei troppo bravo. Grazie Patrizio. Grazie Massimo per l'impegno, tempo, parole di esperienza, che metti nei tuoi giusti, illuminanti e onesti discorsi. Grazie, 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 grazie. Concordo, dice Simone Parcher Umbro, concordo con tutto. Io ho le canzoni, ma non ho i soldi per le autoproduzioni. Un saluto. Però quello che ti dice Cecere è... ha ragione. Detto questo, avete capito qual è il mio pensiero, avete capito qual è l'idea che ho di quello che vi ho detto, e mi sembra che non ci sia più niente da dire. Io quello che vi ho detto, anche se un po' animatamente oggi, decisamente animatamente oggi, però ci tenevo, perché veramente basta maghi e la tastiera. Se uno stesse più dietro a casa, studiare, suonare, fare della roba... Comunque, amici, avete capito il mio pensiero? Quello che voglio dire è, almeno tra gli appassionati di musica, chi ama la musica, non massacriamoci l'uno con l'altro, siamo onesti, non... La cattiveria, l'inimicizia, eccetera, porta solo a risultati brutti. Non c'è nessuna azione brutta che possa portare a frutti buoni, secondo me, ok? E quindi cerchiamo di farlo, di stare attenti. Adesso io vi saluto e vi vado a leggere tutti i vari commenti, siamo stati veramente tanti durante questa diretta. E quindi vi ringrazio e vi auguro buona domenica per quella parte restante. Cerchiamo di stare tutti molto prudenti, di essere tutti molto prudenti. E quindi vi saluto. Ciao ragazzi. Ciao, ciao.